Oggi parliamo di Morbius, il vampiro vivente, personaggio dei fumetti di Spider-Man che è stato trasposto al cinema dalla Sony in solitaria, quindi con un film stand-alone esattamente come avevano fatto per Venom. Morbius è il vampiro vivente, ma spero tanto che questo universo Sony sia morente al più presto. Wabalabadabdabe, bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Marvel. Marvel, iniziamo il mese di aprile tornando a parlare di Marvel, bentornati nella rubrica film in uscita. Sì, è un film. Parliamo oggi appunto di questo cinecomic. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di attivare la campanella delle notifiche, di condividere il video con tutte le persone che hanno detestato questo film e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso. e di quello che ve ne è parso della mia opinione. Vi ricordo anche di seguirmi sugli altri miei social, tra cui Twitch e Instagram, in modo da restare aggiornati su quello che faccio oltre a YouTube. Facciamo un passo indietro prima di iniziare a commentare questo film, che ho visto ieri sera con pochissima voglia, dal momento che le prime recensioni, sia dei giornalisti che l'hanno visto in anteprima, sia dei primi YouTuber che l'hanno visto in anteprima, lo hanno totalmente demolito. E quindi, se già non avevo assolutamente hype per questo film, se non vederlo per poterne parlare sul canale, dal momento che comunque innanzitutto parla di un personaggio dei fumetti, poi parla di un personaggio dei fumetti che ha molto a che fare con Spider-Man, su cui qualcosina so e mi piace sempre parlare, però a parte quello l'avrei totalmente boicottato. Però mi sono detto, nel lontano 2018, quando è uscito Venom, che mi ha fatto schifo al cazzo, spero che siano passati almeno i primi due minuti, e poi nel 2019 uscì Joker, ho detto, cavoli, speriamo che Joker non sia esattamente come Venom, non sia quel tipo di film dove la casa produttrice usa il villain senza il protagonista e imbastisce una storia orrenda dove il villain ha una specie di nemico uguale a lui ma peggiore, come è successo in Venom, come è successo in Venom 2. E invece Joker, devo dire, ci ha dimostrato che si può fare un film su un villain dove il villain resta un villain. Sì, affascinante è tutto, però non ha una controparte più pazza di lui da combattere, ma ci sono delle sottigliezze nelle sue nemosi. In questo caso, nel caso del Joker, era per esempio la società, eccetera, Con Morbius mi sono di nuovo ri-ricreduto, perché ho capito davvero che la Sony non è in grado, quando mette le mani a queste cose, di fare un film bello, di non fare un film stile anni 2000, anzi, poi vi metto qua in descrizione una lista di film degli anni 2000 di questo genere horror comics che potete guardare al posto di vedere Morbius. La Sony è continuato con lo stesso identico stilema di Venom, stilema vincente perché ha incassato molto, nonostante comunque tutti lo abbiano criticato per lo schifo di sceneggiatura o dell'assenza di tale che ha la pellicola, che hanno le due pellicole, perché ormai sono due gli obrobri. Anche qui abbiamo un protagonista vampiro, che però è un vampiro buono, e come antagonista, per esempio, non so, invece di mettere, non lo so, un poliziotto integerrimo, un poliziotto fascistoide che non vuole assolutamente che si sgarri, e magari un vampiro come Morbius che, sì, diventa cattivo, deve cibarsi di sangue, inizia a cibarsi magari, non so, di criminali, di persone cattive, e in un certo senso diventa un antieroe, no? Bastava questa come trama per essere migliore, invece no. C'è Morbius, il vampiro buono, che ha un amico nemico, che diventa vampiro anche lui, che però è più cattivo di lui, e devono combattere esattamente come Venom. Venom è un simbionte, che però è buono perché si aggancia a Eddie Brock, che per qualche ragione non è un pezzo di merda, ma solo un miserabile, e deve combattere un simbionte peggiore di lui. L'hanno fatto in Venom, l'hanno fatto in Venom 2, l'hanno fatto in Morbius. Già questo fa schifo, perché una trama così banale non si vede, cioè non è che non si vede da vent'anni, non si fa più da vent'anni, basta, cioè questa roba qui è da cartone animato di Target, Raio Iò, Target 3, 5 anni. Poi già i cartoni animati per dodicenni, per tredicenni, sono molto più maturi, hanno delle trame molto più complesse, molto più belle di questo film. La differenza tra questi due film tra appunto Venome e Morbius è che se, per esempio, se in Venom 2 la grande assente era la parte centrale del film, vediamo il film che inizia e poi è subito un crescendo verso la scena finale, senza una parte centrale, dove i due protagonisti non si incontrano mai, non succede nulla, qua invece Morbius ha comunque gli stessi difetti, ma strutturati in modo diverso, ovvero c'è Morbius che nel momento in cui si trasforma, si trasforma subito, quindi non come, come non so, come Peter Parker di Sam Raimi, da cui la Sony poteva ispirarsi. Io pensavo anche che nella scena in cui si vede Morbius tutto magro, senza camicia, che poi diventa muscoloso dopo la trasformazione, pensavo avessero anche un po' citato lo Spider-Man di Sam Raimi, però ciononostante lui non ci mette una notte a trasformarsi, si trasforma subito, è subito aggressivo, è subito cattivo, attacca tutti, tutto succede subito, anche l'escalation del pathos, dell'epicità, per quanto ce ne possa essere in un film del genere, ma uno dei tanti difetti anche di questo film è che come alcuni hanno detto senza esprimerlo bene, è che si prende troppo sul serio. Quando hanno detto Venom almeno faceva ridere, intendevano dire che quantomeno Venom non si prendeva sul serio e quindi sembrava quasi consapevole di quello che stava facendo qua, invece giustamente hanno voluto dare un tono più serio, più horror, dato che si parla di una persona che diventa vampiro, succhia sangue, eccetera, però questo fa sì che il film sembra, sembri, che si prenda troppo sul serio e quindi è ancora peggio. Fatto sta che tutti sono preoccupatissimi anche all'inizio quando Morbius vuole sperimentare ibridando DNA di vampiro e DNA di umano, sono tutti strapreoccupati. Ma a che prezzo? Ma a che prezzo? Ma che cazzo ne sai? Ma non siamo in un film horror? Cioè, lo siamo, però i protagonisti non lo sanno. Quindi, iniziate a preoccuparvi magari gradualmente, invece no, dall'inizio c'è tutto un no, ma se farai questo non sarai più te stesso. Cioè, tutte ste robe o scene proprio da trasformazione telefonatissima e dici ok, succederà un merdaio. Perché? Ma fai che tutti sono entusiasti e iniziano a preoccuparsi quando vedono una lenta trasformazione di Morbius e invece no. Morbius si trasforma subito proprio per dare spazio alla continua sequenza no sense di scene ed azione di combattimento perché appunto da quando Morbius si trasforma e da quando poco dopo si trasforma anche il villain tra l'altro off screen continuano a scontrarsi ogni 5 minuti in quello che potrebbe sembrare lo scontro finale tra i due protagonisti quindi se in Venom 2 non c'era una scena centrale qua è costellato di scene iniziale prologo scene iniziale e scene finali una dietro l'altra non sapevano quale scegliere le hanno messe tutte continuano in perterriti a combattere ma non c'è un escalation ci sono sempre loro che combattono tra i palazzi in questa sorta di salti che sembrano quasi dei teletrasporti con il fumo che si lasciano dietro e continua così fino alla fine finché appunto uno non riesce a sconfiggere l'altro poi anche lì il discorso stiamo parlando di un film su un vampiro non un vampiro convenzionale un vampiro mitologico magico ma un vampiro creato dalla scienza ma sempre vampiro è e hanno preso la scusa che questo tizio questo Michael Morbius premio Nobel rifiutato tra l'altro ma si può rifiutare un premio Nobel ha senso ti danno un milione di dollari lo rifiuti sembra che non sappiano che il premio Nobel non sia solo una medaglia ma vabbè rifiuta il premio Nobel per pare che lui abbia creato del sangue artificiale siamo un po' già nel mondo di 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 True Blood ha inventato un sangue artificiale che ha curato parecchie persone lo dice lo stesso poliziotto quel sangue artificiale mi ha salvato la vita in Afghanistan ma è tutta una scusa per fare in modo che il vampiro buono non beva sangue vero ma beva sangue artificiale è già quello vabbè inoltre come se non non fosse già abbastanza da triste questa questo escamotaggio narrativo per vendere il film anche ai bambini il sangue artificiale è azzurro puffo non è rosso ok che lo si distingue di più però perché lui vedi no no io mi rifiuto non devo bere sangue umano bevo il sangue artificiale che ho creato io eccetera eccetera quindi c'è tutta sta roba qui che per me è davvero ridicola è proprio degna di una scrittura cioè l'idea di iniziale magari era anche bella ma è proprio fatto tutto per evitare le censure per evitare il PG-13 per evitare che cazzo ne so quindi è la sceneggiatura l'arte che si piega al commercio è tutto commercio i film devono vendere i biglietti devono staccare i biglietti però un conto è il commercio che si piega un po' all'arte quando ci sono dei registi che si impongono un conto è l'arte che si piega al commercio qui è proprio no come facciamo dobbiamo fare un film così ma non possiamo fare questa cosa ah ci sono mi invento questa sceneggiatura no che schifo che schifo c'è chi ha detto che è comunque leggermente migliore di Venom che è stato intrattenuto io sarà che forse avevo l'hype sotto le chiappe ma ho preferito Venom ho anche preferito Venom 2 credo forse perché c'era Carnage e dici vabbè quantomeno ho visto Carnage però Morbius già è un seppure un nemico Morbius che a differenza di Venom può può nascere indipendentemente dalla presenza di Spider-Man il carisma del personaggio è comunque inferiore a Venom e Carnage di conseguenza non andrei comunque a vedere il film per questo personaggio io credo che le uniche persone che potrebbero apprezzare questo film sono quelle persone che amano da morire quei film sui vampiri quelli che andavano tantissimo di moda che piacevano anche a me per carità quei film sui vampiri dei primi anni 2000 che andavano un sacco nei primi anni 2000 e in questo modo uniscano la passione per i personaggi Marvel che però hanno solo all'inizio dicono comunque è ispirato a un personaggio dei fumetti Marvel però se no non si capisce comunque è per quelle persone che magari vogliono vedere sia un vampiro che un personaggio Marvel allora guardano questo film ma per farlo devono davvero chiudere entrambi gli occhi e non guardarlo e uscire dalla sala a me dispiace tantissimo per Jared Leto perché è già il secondo film che gli è già il secondo cinecomic che gli va di merda e non per colpa sua oddio non per colpa sua non lo so fino a un certo punto perché la prima volta ok la seconda fatti due domande anche perché qui era il protagonista in Joker tutte le scene che aveva avuto gliele avevano tagliate scusate in Joker in Suicide Squad del 2016 tutte le scene che aveva avuto gliele avevano tagliate la maggioranza e quindi non è stato espresso pienamente il potenziale di quel personaggio e Jared Leto sarà molto arrabbiato per questo al punto da buttarsi nella Marvel in questo progetto da protagonista dove si vede che lui si impegna comunque si vede che Jared Leto cerca di dare una recitazione profonda degna di quando lui crede in un progetto però è tutto montato a livello registico in modo osceno ci sono dei tagli repentini che il regista si vede che vuole cercare la sua dimensione vuole dare un taglio autoriale ma non ne è capace non ci riesce risultano dei tagli orrendi dei tagli fatti male sembra quasi che abbiano tagliato le scene due secondi prima o due secondi dopo di quando dovrebbero essere state realmente tagliate è tutto fatto con le chiappe anche quando c'è il monologo iniziale in cui la voce on screen del protagonista inizia a diventare fuori campo non sembra fatto bene sembra che l'abbiano sbagliato nel montaggio audio video regia quindi totalmente anonima montaggio osceno se vogliamo anche parlare della fotografia classica fotografia sempre da horror anni 2000 che c'era anche in venom questa fotografia un po' spenta buia come sempre per nascondere la pochezza degli effetti speciali effetti speciali da anche lì film anni 2000 film anni 90 con il budget basso mi ricordo il primo Harry Potter e la pietra filosofale dove hanno provato a fare i ragazzi che volavano con le scope nel quidditch tutte in cgi e si nota tantissimo cosa che poi dal secondo hanno levato sembrano tutti di gomma tutti gommosi quando combattono cadendo da un palazzo sono totalmente in cgi e sono orrendi sono meglio spider-man e venom nello spider-man del 2007 quando cadono da un palazzo nonostante anche lì sia totalmente digitale è fatto quasi meglio qui è proprio una merda già Retleto cerca un po' di farsi voler bene di far rapire lo spettatore dal suo personaggio ma questa sua carisma tenerezza sono proprio troppo sottili per bucare lo schermo c'è una leggera citazione a Hulk non ti piacerebbe vedermi quando sono affamato non ti piacerebbe vedermi quando sono arrabbiato che sicuramente in inglese renderà ancora meglio per il misunderstanding hungry che tra l'altro avevano citato anche nell'incredibile Hulk del 2008 però davvero è tutto troppo io davvero questi film con tutto rispetto per eventuali minorenni che vedranno questo video ma sembra merda per tredicenni cioè io dico merda per tredicenni nel senso che quando sei in quella fase della crescita che l'entusiasmo per l'azione o per il personaggio nel mio caso era per il personaggio quando ero più giovane ti fa bere la qualunque merda che ti proponga la casa produttrice è un vero peccato che però siamo negli anni 2020 dove ci sono film di supereroi di un certo calibro e la Sony continui si ostini in perterrita a trattare i film di supereroi come merda per tredicenni c'è proprio una mancanza anche di rispetto per il prodotto originale per il pubblico a cui lo si vuole destinare è vero che il cinecomics è talmente diffuso che ormai non è neanche più un genere ma sta diventando un media e quindi possono esserci cinecomics alti e cinecomics merdosi cinecomics per un target davvero basso però un conto è farlo apposta un conto è è davvero mancare di rispetto e dire ma si facciamo così perché vaffanculo ci siamo stufati tutti sembra davvero che gli sceneggiatori di Boris ormai facciano tappa fissa nei cinecomics della Sony parliamo un secondo dell'elefante nella stanza parliamo delle due scene post credit non so se ce ne sono altre ma dopo la seconda io me ne sono andato parliamo delle scene post credit che sono state tanto odiate e ho capito perché praticamente nessuno di quegli sceneggiatori teste di cazzo ha capito qualcosa dell'incantesimo di Spider-Man No Way Home l'incantesimo di Spider-Man No Way Home il secondo quello finale che risolve la situazione serve a far dimenticare a tutti che Peter Parker è Spider-Man però facendo dimenticare Peter Parker in questo modo tutti i nemici che erano stati attirati dagli altri universi perché avevano questo istinto omicida verso Spider-Man non sono stati più attirati perché non si ricordavano più dell'esistenza vabbè già quello era scritto col culo però sto cercando di spiegare un po' l'incantesimo fondamentalmente questi nemici poiché non erano più attirati dall'universo dello Spider-Man di Holland sono tornati al loro universo e vediamo Norman Osborn vediamo Doctor Otto Puss ma anche gli altri due Spider-Man che comunque erano stati attirati per aiutare Peter diciamo Peter 1 quello che non hanno capito non ha capito un cazzo di nessuno questi sceneggiatori probabilmente non hanno neanche visto il film non si sa è che hanno fatto in modo che l'avvoltoio l'avvoltoio di Michael Keaton che vi ricordo è comunque un personaggio su cui la Sony detiene i diritti è sempre stato dell'universo di Peter 1 è sempre stato dell'universo di Tom Holland ciò nonostante loro l'hanno comunque fatto andare nell'altro universo nell'universo non sappiamo se sì dovrebbe essere l'universo di Garfield ma spero veramente che non tocchino mai che Garfield non tocchi mai questa merda che stanno facendo hanno preso l'avvoltoio hanno preso una persona che già viveva in quell'universo e per qualche ragione l'hanno portata in un altro universo non ha assolutamente senso non ha senso poi ovviamente fanno vedere che siccome nell'altro universo questo tizio non doveva esistere non doveva essere in galera l'hanno rilasciato chiaramente e fino a lì ci sta anche seconda scena dopo i titoli di coda dopo pochi secondi ancora peggio vediamo l'avvoltoio che arriva da lontano ma scusa sei in un altro universo come cazzo fa ad aver recuperato la sua la sua tecnologia la sua armatura che era stata rubata ai chitauri nell'universo di Tom Holland ma cazzo ma non capite proprio niente ma volete fare proprio la merda per i bambini la merda per i bambini che non ascoltano che stanno giocando con i pupazzetti mentre la mamma gli mette il film in dvd perché non ha senso in questa scena appunto vedi l'avvoltoio in tutto il suo splendore che arriva in un campo di grano incontra Morbius e dice non so cosa ci faccio in questo mondo ma sono sicuro che c'entri Spider-Man e sto pensando a un'alleanza ma perché 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 deve centrare Spider-Man sì potrebbe darsi che sia parte dell'incantesimo che lui sia ancora incalzato con Spider-Man però poi vabbè ha letto di Morbius perché ci sta si leggeva sui giornali quello che aveva fatto e quindi lui è andato a cercarlo perché dice ok questo ha dei superpoteri voglio ottenerlo dalla mia parte ma come cazzo fai a convincere questo qua che è stato un vampiro buono dall'inizio alla fine ad avercela con uno sconosciuto e poi c'è Morbius che dice ah sì interessante che interessante cosa cioè lui dice Spider-Man e Morbius non batte ciglio quindi significa che sa dell'esistenza di Spider-Man non è mai stato citato in tutto il film il film è ambientato a New York Long Island anche ma anche a New York Morbius prende il Daily Bugle cioè volete farmi credere che Spider-Man non c'è neanche un secondo a cercare di impedire a questi due vampiri che si diano botte da orbi di distruggere la città se Spider-Man esiste ma cazzo ma fate pace col cervello Sony fate pace col cervello vi odio mi fate schifo che poi la Sony se vuole se dà in mano le cose alle persone giuste fa dei prodotti della Madonna la Sony ha fatto Into the Spider-Verse ha fatto Mitchell contro le macchine cito a caso anzi non a caso due cartoni animati per dimostrarvi che quando una cosa è fatta bene quando una cosa è sceneggiata bene non importa se è un cartone o un film quando una cosa è fatta male anche se è un film stra pubblicizzato stra venduto è una merda è una merda rimane madonna io non so sono stanco sono stanco sono contento di averne parlato di essermi sfogato potremmo anche sfogarci in qualche live sicuramente su Twitch però davvero ma qua siamo proprio a non conoscere il materiale che tu stesso hai prodotto e sbattertene comunque i coglioni è una roba orripilante orripilante grazie per avermi seguito fino a qui con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video che sarà sicuramente meglio di Morbius anche se lo monto al buio grazie a tutti